lo stoicismo nella storia della filosofia antica origine significato del termine stoico il termine stoico deriva da stoa in greco portico si narra infatti sotto il portico dipinto o stoa pecile nella gorà di atene zenone di cizio 333 263 avanti cristo avrebbe installato la sua scuola verso la fine del quarto secolo avanti cristo la scelta di tenere lezione sotto il portico splendidamente affrescato dal pittore micone insieme al polignoto di taso fu determinata da questioni burocratiche a differenza di epicuro zenone fenicio proveniente da cipro non possedeva la cittadinanza ateniese e non poteva acquistare immobili in città stoicismo e cinismo di oggi nella erzio riferisce che zenone considerato il padre dello stoicismo antico si sia accostato alla filosofia diventando discepolo del filosofo cinico cratete il quale a sua volta aveva seguito la direzione spirituale di diogene di sinope il grande cane queste informazioni dosso grafiche confermerebbero la derivazione del primo stoicismo dalla filosofia cinica molti come vedremo sono i tratti in comune la centralità della morale incarnata da uno stile di vita austero basato sulla virtù dell'autocontrollo encrateia il costante richiamo alla natura come modello cui improntare con coerenza la propria condotta l'indifferenza verso le convenzioni i tabù sociali e la ferma consapevolezza che l'unico vero bene risieda nell'interiorità lo stoicismo come sintesi dei principali temi della filosofia antica ma in un certo senso la scuola stoica la cui parabola durerà quasi un millennio e si concluderà soltanto con il tramonto dell'età antica rappresenta una sintesi originale ed efficace delle principali istanze emerse dalla riflessione ellenica di epoca presocratica e socratica in particolare ci risulterebbe difficile comprendere alcune dottrine stoiche senza far riferimento a socrate in ambito etico e ad eraclito per la fisica e la teologia peraltro lo stoicismo antico si nutre del più ampio dibattito culturale fiorito in età ellenistica che come abbiamo visto è stata una delle epoche più ricche e stimolanti per la storia della filosofia occidentale stanno lì a sottolinearlo la sua vocazione ecumenica e cosmopolita quell'attenzione ad una vita spirituale che non diventa mai però mistica estraneazione ma si apre al mondo in termini filantropici socialmente politicamente attivi la grande vivacità con cui filosofi stoici generazione dopo generazione conducono ricerche in tutti i campi dello scibile umano dalla gnosiologia alla logica alla linguistica dalla fisica delle meccaniche celesti ai fenomeni meteorologici ed atmosferici dalla biologia alla zoologia dalla sociologia alla giurisprudenza ciò non di meno quello stoico fu soprattutto e fondamentalmente un modo di vita una disciplina spirituale un abito di pensiero e di comportamento da indossare giorno per giorno indissolubilità di teoria e prassi vita e pensiero di questa arte del vivere tecne tubiu diffusa in tutto il bacino del mediterraneo e fra tutte le classi sociali in epoca ellenistica e poi romana rimarrà un importante eredità nelle epoche successive attraverso il medioevo cristiano sino al rinascimento e all'epoca moderna al punto che ancora oggi espressioni come pazienza stoica atteggiamento stoico prendere le cose con filosofia hanno un significato comprensibile a tutti peraltro immagini figure argomenti tipici della speculazione stoica rimergeranno vivi e fecondi nel pensiero e nelle vicende umane di grandi filosofi moderni ne ricordiamo qui soltanto due fra tutti l'ebreo olandese baruch spinoza 1632 1677 e il tedesco friedrich willem nice 1844 1900 l'evoluzione storica della scuola stoica dal quarto secolo avanti cristo all'età imperiale la storia della scuola stoica è meno lineare rispetto a quella del giardino epicureo dopo la morte di zenone avvenuta nel 263 avanti cristo e lo scolarcato del suo discepolo cleante di asso 330 232 circa avanti cristo la stoa ebbe nuovo impulso alla metà del terzo secolo avanti cristo attraverso l'insegnamento di un altro importante pensatore crisippo di soli 281 208 circa avanti cristo con la scomparsa di crisippo pur mantenendo una certa uniformità intorno ai dogmi fondamentali la scuola stoica fu attraversata da spaccature interne abbastanza rilevanti con dispute che continueranno a contrapporre scolarchi e scolari per secoli almeno fino al primo secolo avanti cristo da quel momento le notizie a nostra disposizione si fanno ancora più scarse e risulta quasi impossibile tracciare una storia organica dell'evoluzione del pensiero stoico sappiamo che grazie ai viaggi di panezio di rodi 1185 109 circa avanti cristo prima e di posidonio di apamea 135 50 avanti cristo poi la cultura stoica penetrò in roma realizzando un fecondo connubio culturale tra le elitte ellenistiche e le classi dominanti della roma repubblicana panezio grazie all'interessamento dello storico polibio entrò in contatto con il circolo degli scipioni mentre posidonio nell'87 86 avanti cristo guidò una delegazione di ambasciatori rodesi presso caio mario anche se non siamo in grado di narrarne le vicende abbiamo certezza che lo stoicismo continuò a fiorire durante l'epoca romana dalla fine della repubblica all'impero almeno fino al secondo secolo dopo cristo basti ricordare i nomi di pensatori del calibro di seneca musonio rufo epitteto e marco aurelio di questi ultimi tratteremo in separata sede mettendo in rilievo la specificità delle loro vicende biografiche e filosofiche nel presente capitolo oltre a tracciare un rapido profilo del primo stoicismo esporremo le linee generali del pensiero teoretico e pratico per classificare lo sviluppo cronologico della scuola stoica si usa generalmente la seguente periodizzazione antica stoa terzo secondo secolo avanti cristo le figure più in vista oltre al fondatore zanone di cizio sono le stonne di chio cleante di asso e crisippo di soli media stoa secondo primo secolo avanti cristo rappresentata principalmente da panezio di rodi e posidonio di apamea qui dobbiamo l'introduzione della filosofia stoica a roma nuova stoa o stoa romana primo secondo secolo dopo cristo vi giganteggiano lucio a neo seneca epiteto di erapoli e marco aurelio sulle vite degli stoici antichi antichi ci rimangono poche informazioni certe spesso intramezzate di aneddoti e spunti polemici la questione delle fonti e della tradizione la gran parte delle opere letterarie prodotte dalla stoa antica purtroppo è andata perduta sappiamo ad esempio che zenone scrisse tra gli altri libri intitolati logica sulle passioni sul conveniente repubblica ma a parte titoli ci rimangono scarsi frammenti fu zenone a gettare le basi della dottrina stoica sviluppando l'etica sulla falsariga della filosofia cinica e ponendole principali questioni di logica e fisica oltre al cinico cratete avrebbe frequentato anche il megarico stilpone e l'accademico polemone intrattenendo con le relative scuole rapporti fecondi di cliente di asso il più religioso degli stoici antichi ci è giunto un inno a zeus composto da 40 versi in esametri la fonte assai tarda si tratta dello scrittore bizantino giovanni stobeo vissuto tra il quinto e il sesto secolo dopo cristo l'inno a zeus rappresenta una sintesi in forma poetica della fisica e teologia stoica zeus vi è celebrato come incarnazione dell'unico principio o logos che regge l'ordine cosmico una vera e propria preghiera la cui eco conserva ancora oggi un forte potere suggestivo dei suoi trattati a parte alcuni titoli riportati da di oggi nell'aerzio non resta quasi nulla attribuiti a crisippo di soli e ai suoi discepoli zanone di tarzo di ogere di seleucia detto il babilonese e antipatro di tarzo si sono conservati un certo numero di frammenti citati da autori posteriori come cicerone plutarco galeno gli stoici romani e i padri della chiesa poca cosa se si pensa che stando alle fonti il solo crisippo sarebbe stato autore di ben 700 opere l'archeologia ha offerto un contributo importante con il ritrovamento nella celebre villa dei papiri di ercolano di alcuni papiri carbonizzati contenenti tracce di due opere di crisippo intitolate questioni logiche e sulla provvidenza più una terza rimasta sin qui anonima a lui in particolare siamo debitori degli studi sulla logica proposizionale ripresi e sviluppati nell'ottocento dal matematico e logico inglese George Boole e della definitiva sistemazione della dottrina cosmologica cui egli avrebbe dato un'impostazione fortemente unitaria e organicistica lo stoicorum veterum fragmenta di von Arnim l'immenso lavoro di ricerca e di raccolta delle testimonianze dei frammenti attribuibili agli stoici antichi fu portato a termine tra il 1903 e il 1905 dal filologo tedesco Hans von Armin con la pubblicazione del monumentale stoicorum veterum fragmenta per quasi vent'anni von Arnim passò in rassegna le opere della letteratura greca e latina per individuare e selezionare brani utili alla ricostruzione del pensiero dei primi stoici da zenone a crisippo le fonti esaminate coprono un arco di tempo amplissimo che va grossomodo dal secondo secolo avanti cristo al decimo secolo dopo cristo tutte le edizioni successive nonché gli studi sullo stoicismo si rifanno all'opera di von Arnim e alla classificazione da lui introdotta la scelta di vita del filosofo stoico come l'epicureismo anche l'adesione allo stoicismo si basa su una scelta di vita fondamentale una presa di posizione ideale che implica un radicale cambiamento di vita non si diventa stoici a tavolino ma con la pratica allo stoicismo non si aderisce in termini formali piuttosto ci si converte il socrate eroico dell'apologia come modello di vita chiara è la derivazione socratica della scelta di vita stoica la figura di socrate rimarrà un punto di riferimento sino al tramonto della stoa quanto a te anche se non sei ancora socrate devi vivere come se volessi diventare socrate dirà epiteto nel suo manuale non il piacere picureo nell'utile individuale ispirano il filosofo stoico il socrate a cui egli si rifà è piuttosto quello intrepido e coraggioso dell'apologia di platone che ribatte punto per punto le accuse di anito e di meleto dinanzi al tribunale tenese che non recede di un passo dalla sua posizione nemmeno quando gli si prospetta la possibilità della condanna alla pena capitale la morte non lo spaventa ne aveva dato prova da giovane combattendo come al servizio della polis nelle pianure di potidea anfipoli e delio senza mai indietreggiare d'un passo e da vecchio infischiandosene degli ordini perentori dei trenta tiranni che lo volevano obbligare a tradurre in carcere tale leonte di salamina sgradito a regime perché morisse e anche allora io non a parole ma a fatti feci vedere che della morte non me ne importava proprio un bel niente ma di non commettere ingiustizia o empietà questo mi importa soprattutto platone apologia 32 cd il bene morale come valore assoluto il bene degli stoici corrisponde dunque al bene morale a quella voce della coscienza che come il daimon socratico ci impone di non fare il male di non trasgredire le leggi degli uomini e degli dei tradotto in termini moderni potremmo anche usare la locuzione senso del dovere l'obbedienza a ciò che è giusto esprime una forma di razionalità il cui criterio trascende il singolo individuo non è la carne a dettar legge bensì un bene che è disincarnato e in quanto tale universalmente comprensibile e perseguibile da tutti questo principio marca una differenza sostanziale tra stoicismo ed epicureismo sia in ambito etico che fisico dal momento che come vedremo alla casualità del materialismo atomista epicureo i seguaci della stoa contrapporranno un rigido finalismo spiritualista una concezione del bene del cosmo monistica ed immanente d'altro canto il bene cui gli stoici si riferiscono si diversifica da quello platonico in quanto non collocato su un piano trascendente rispetto al mondo in cui l'uomo si trova a compiere la sua scelta morale e ad agire il cosmo stoico è omogeneo spirito e materia convivono come facce della stessa medaglia e dotato di una razionalità immanente con l'epicureismo e con le altre filosofie ellenistiche lo stoicismo ha in comune il netto rifiuto di ogni forma di dualismo di derivazione platonica o aristotelica il conseguimento del bene che sia il piacere epicureo o la virtù stoica non è rimandabile ad altra vita lo si deve poter conseguire qui ed ora l'unico bene e male è quello che dipende dalla scelta morale del singolo individuo ma per improntare la propria esistenza al bene occorre conoscere esattamente in che cosa esso consista e anche in questo caso come abbiamo fatto nel parlando di epicuro a proposito del piacere si rivelerà utile mettere in discussione quello che a prima vista appare come un luogo comune abbastanza diffuso e consolidato per esempio è abbastanza comune pensare alla malattia come un male e alla salute fisica come un bene oppure ad una fortunata vincita all'otto come ad un bene e ad una debacle finanziaria come ad un male in realtà la sede in cui si gioca la partita del bene e del male è esclusivamente quella della nostra interiorità personale ciò che non dipende da me ciò che non è direttamente il mio potere in vero non può essere considerato né bene né male perché in quelle faccende in cui non si ha effettiva libertà di scelta non si dà alcun bene o male in senso morale e quindi cado ammalato non dipende da me se sono nato fragile e mortale la malattia in sé non è un male posso provare a farmene una ragione accettando l'ineluttabilità del manifestarsi del dolore fisico oppure posso puntare i piedi maledire la malattia inveire contro uomini e dei questo non mi servirà a guarire ma comportandomi in maniera irragionevole finirò con l'aggiungere al dolore fisico altra sofferenza di genere spirituale ecco provare ad evitare quest'ultima è effettivamente il mio potere e dipende da me compiere una corretta scelta morale nel compiere tale scelta sono effettivamente libero dunque posso fare il bene o il male ciò che non è sotto il nostro diretto controllo si rivelerà agli occhi del filosofo stoico né bene né male semplicemente indifferente ad viaforo in greco riprenderemo questo concetto nel successivo paragrafo dedicato all'etica studiare filosofia significa allenarsi a distinguere ciò che è il nostro potere da ciò che ci è estraneo e dunque indifferente in ultima istanza affermerà epiteto l'educazione filosofica consiste nel conoscere ciò che ci appartiene e ciò che ci è estraneo diatribe libro quarto 5 arrivare a convincersi nella profondità del proprio essere che gran parte delle cose della vita ci è estraneo ed in quanto tale indifferente non è affatto facile perché comporta l'accettazione della fondamentale tragicità che regola il rapporto tra l'individuo e il mondo tra la parte e il tutto serena accettazione della tragicità dell'essere al mondo tragico è lo scoprirsi fragili esposti di continuo ai colpi della fortuna ai rovesci della sorte avversa tragico è il prendere piena coscienza del proprio essere mortali della volatilità del tempo dell'impermanenza di tutte le cose e dinanzi a questo spettacolo denaro onori cariche pubbliche bellezza fisica tutto perde di significato di tale consapevolezza tuttavia lungi da lasciarci abbattere se si segue lo stoicismo si ricava un insegnamento decisivo per la propria scelta di vita la vera libertà il vero potere risiede in quella rocca interiore che costituisce la nostra essenza più propria la scintilla divina che arde in ciascuno di noi fortificato dalla conoscenza certa della distinzione tra la sfera morale e quella delle cose indifferenti il filosofo stoico si manterrà dunque sereno accettando quello che non può cambiare e curando il proprio sé morale come la cosa più preziosa al mondo la coerenza omologhia come virtù fondamentale nel far ciò sottoponendosi ad una dura disciplina quotidiana egli otterrà il sommo bene l'essere coerente con se stesso omologhia in questo consisteva secondo zenone l'essenza stessa della filosofia stoica vivere in modo coerente e cioè vivere secondo un'unica ragione e senza contraddizioni in quanto chi vive in una condizione conflittuale è infelice la fisica tripartizione del discorso filosofico in fisica logica ed etica il discorso filosofico stoico come quello delle altre filosofie ellenistiche si compone di tre parti fondamentali fisica logica ed etica ad ogni ambito di studio dedicheremo un paragrafo a sé stante tale distinzione tuttavia non rifletteva un sapere diviso in compartimenti stagni cui dedicarsi in maniera specialistica nel mondo antico l'articolazione del discorso filosofico di una scuola era e rimaneva comunque funzionale alla scelta di vita compiuta da chi vi aderiva la conoscenza della natura è funzionale all'esercizio della virtù così disputare di questioni naturali in astratto non aveva molto senso sforzarsi di comprendere il mondo in cui ci si trova è fondamentale per capire se stessi in relazione al mondo e di conseguenza per orientare la propria condotta morale katata infusin secondo natura questo come si è visto rappresenta un punto centrale decisivo che distingue nettamente l'approccio epistemologico della filosofia antica da quello della scienza moderna lo stoicismo non fa eccezione infatti non c'è altro modo nel modo più adatto per affrontare la questione dei beni e dei mali o della virtù o della felicità se non prendendo le mosse dalla natura comune e dalla struttura del cosmo il discorso sui beni e sui mali va collegato a tale problematica dato che non esiste alcun fondamento nel riferimento migliore di questo d'altra parte se c'è un buon uso della scienza fisica questo è proprio quando si applica alla distinzione dei beni e dei mali tutto ciò che è naturale e razionale come in un gioco di specchi le dimensioni etica e fisica rimandano l'una all'altra della scienza della natura lo stoico ha bisogno per poter distinguere ciò che è effettivamente in suo potere da ciò che invece non gli compete perché è legato a concatenazioni di cause indipendenti dalla sua volontà d'altra parte lo studio dei fenomeni naturali ampliando in senso macrocosmico la dimensione umana gli consente di regolare la propria condotta in base alla più generale razionalità del cosmo di cui egli è particella si tratta in ambi due casi di questioni cui rimanda e da cui dipende la fondamentale scelta di vita del filosofo stoico il ragionamento si può riassumere schematicamente con queste proposizioni 1 voglio essere coerente con me stesso 2 a tale scopo debbo essere in grado di riconoscere ciò che dipende da me da ciò che invece è indipendente dalla mia volontà a perché soltanto su ciò che dipende da me sono libero di esercitare la mia scelta morale ovvero di essere coerente b con essere coerente intendiamo essere in sintonia con se stessi ossia con la propria natura coerenza è sinonimo di autenticità 3 stabilita tale distinzione per poter essere coerente con me stesso debbo indagare il senso del tutto di cui costituisco una minuscola particella giacché la mia ragion d'essere la legge essenziale che determina la mia natura particolare è manifestazione dell'unica universale ragion d'essere che regola il tutto di cui io stesso sono espressione l'uomo sta alla natura come la parte al tutto il rapporto che esiste tra il singolo individuo e il cosmo assomiglia per metafora al rapporto tra la parte il tutto all'interno di un organismo vivente come ciascuna cellula del nostro organismo è dotata di un suo proprio meccanismo vitale in obbedienza ad una legge biologica interna ogni cellula nasce si nutre cresce si riproduce e infine muore che corrisponde armonicamente alla più generale legge che ordina il funzionamento complessivo dell'intero organismo così ogni essere vivente obbedendo alla propria legge interna funziona all'unisono con il mondo intero parte e tutto non sussistono separatamente essi sono pura relazione la conoscenza di sé rappresenta la piena realizzazione oicheiosis dell'uomo in quanto animale razionale come parte microcosmica della natura macrocosmo l'uomo tende alla sua realizzazione obbedendo alla legge naturale che lo dirige dall'interno tale legge si manifesta a partire dalle pulsioni biologiche elementari come cura di sé appropriazione del proprio essere oicheiosis tale istinto di conservazione trova il suo perfezionamento nel pieno sviluppo della coscienza razionale che rappresenta la finalità specifica la ragion d'essere biologica e fisiologica dell'uomo nel coltivare la razionalità egli si realizza pienamente in armonia con la natura a tale attività di auto appropriazione si collega quella sensazione di compiaciuto benessere di pace di salute di bellezza che si tratta di un'esperienza comune a tutti ci riempie di meraviglia quando liberi da inutili preoccupazioni contempliamo un paesaggio naturale sentendocene partecipi in sintesi il singolo individuo sta al tutto ovvero la natura al cosmo alla divinità zeus eccetera come la cellula sta all'organismo di cui è parte lo stare è uno stare in relazione secondo una legge razionale ovvero il logos la natura è ordine cosmos prodotto da una legge divina immanente logos il mondo della fisica stoica è physis secondo l'accezione dei filosofi presocratici il tutto organico che si genera crescere cresce la parola physis vale la pena rammentarlo deriva dal verbo greco fio io genero io cresco e infine muore e cosmo ovvero sistema ordinato e armonico tale ordinamento è logico in quanto manifestazione del logos la legge divina che tutto permea tutto mette in connessione si tratta evidentemente di un'azione divina che si esercita sul tutto dal proprio interno in maniera endogena per così dire per indicare tale idea in filosofia si usa il termine immanenza dal verbo latino in maneo o rimanere dentro qui corrisponde l'aggettivo immanente il cosmo metaforicamente viene visto come un'unica grande città napolis retta da una sola divina costituzione una sola legge nomos eterna la legge interna da vita alla città come l'anima muove il corpo l'universo è una cosmopolis in questo senso al punto che anche il diritto positivo le leggi con le quali si governano le comunità umane elleni o barbari che siano sono una filiazione dell'unica legge di natura tale prospettiva fisica è richiesta come abbiamo mostrato dall'esigenza razionale ordinatrice propria del carattere stoico sarebbe inconcepibile che l'ordine regnasse soltanto all'interno del singolo essere umano mentre il resto del mondo risultasse governato dal cieco caso prodotto per esempio dal clinamen di epicurea memoria o da forze meccaniche a logiche ossia che si sottraggono ma non sono necessariamente contrarie alle leggi della logica il fuoco di eraclito come principio divino del tutto peraltro chiara ed esplicita è la derivazione della concezione fisica dello stoicismo da quella di eraclito di efeso come eraclito sostengono che il fuoco è principio delle cose che sono e che di quest'ultimo in ciò in sintonia con platone i principi sono dio e la materia però zenone sostiene che ambedue sono corpi sia il principio attivo che quello passivo mentre platone dice che la prima causa quella attiva è incorporeo così aristocle in eusebio preparatio evangelica il nome eraclito si può pronunziare sia eraclito che eraclito a seconda di se lo si pronuncia alla greca o alla latina infatti come il fuoco pur eracliteo il principio supremo dell'universo stoico corrisponde al logos al contempo legge universale e divinità zenone attribuisce carattere divino alla legge naturale e sostiene che la sua forza consiste nel comandare le cose giuste e nel proibire quelle contrarie analogamente zenone definisce dio come una legge divina e naturale così cicerone sulla natura degli dei in accordo con la visione eraclitea inoltre lo stoicismo rifiuta il dualismo platonico che separa materia e spirito o dio assegnando loro piani di esistenza distinti per zenone agente e paziente ossia ciò che muove e ciò che è mosso anima e corpo sono entrambi corpi due facce della stessa medaglia il cosmo si presenta dunque come un tutt'uno di materia animata per così dire permeato al suo interno dal fuoco divino e in ultima distanza ad esso riconducibile nella visione stoica fisica e teologia tendono a corrispondere se il fuoco come principio attivo dell'universo corrisponde alla divinità la fisica stoica diventa a tutti gli effetti una teologia essa presenta delle caratteristiche che la rendono unica nel panorama delle filosofie di epoca ellenistica e tardo antica la divinità o zeus che dir si voglia è infatti unica è una sorta di monoteismo di contro al politeismo della religione greco romana corrente cui si ispira per esempio epicuro come abbiamo visto è immanente e pertanto essendo zeus uno con il tutto è lecito parlare di panteismo ovvero dio è il tutto corrisponde con il tutto inoltre se il logos divino è legge di natura essa avrà le caratteristiche di una vera e propria provvidenza proloia in questo senso il fato non è cieco bensì razionale la provvidenza fa sì che tutti i fenomeni siano orientati ad un fine superiore ad una logica per così dire sinfonica per alcuni primo fra tutte cleante di asso essa si manifesta in forma di pneuma soffio respiro che permea l'intero mondo la natura spirituale di tale principio è evidente dal resto spiritus è la traduzione latina del termine greco pneuma per questo a proposito della teologia stoica è possibile parlare di finalismo spiritualistico in breve nello stoicismo antico della divinità si può dire che sia uno unica monismo o monoteismo due immanente tre ragion d'essere interna del tutto quindi panteismo quattro provvidenziale cinque spirito puro spirito il fuoco in senso cosmologico se invece consideriamo il fuoco in termini cosmologici nella tradizione stoica esso assume un duplice significato letterale e figurativo letteralmente esso è il fuoco uno dei quattro elementi naturali accanto ad aria acqua e terra in quanto tale esso costituisce secondo zenone il principio primo l'archè dei filosofi presocratici del processo di cosmogenesi cosmos genesis nascita o formazione del cosmo nonché rappresenta il punto finale in cui tale processo si conclude per poi nuovamente riavviarsi in greco palin genesis nuova nascita o palingenesi la conflagrazione cosmica e il grande anno in senso figurativo il fuoco è metafora materiale della realtà in sé una realtà che in linea con il pensiero ellenico delle origini si presenta come circolare ciclica dal greco ciclon circolo giro a tempo debito l'intero universo finisce per combustione ma poi di nuovo si riorganizza è la famosa dottrina del grande anno cosmico che si produce ciclicamente attraverso una conflagrazione cosmica ecpirosis essa ricorda da vicino la più recente teoria cosmologica del big bang la grande esplosione formulata nel 1927 dall'astronomo belga George Lamet 1894 1966 sulla base delle equazioni della relatività generale di Albert Einstein e successivamente perfezionata dall'astrofisico statunitense Edwin Hubble 1889 1953 secondo tale teoria confermata da una serie di evidenze sperimentali l'universo sarebbe attualmente in espansione dal momento che le galassie sembrano allontanarsi l'una dall'altra la forza propulsiva da cui deriva tale moto sarebbe da individuarsi nella grande conflagrazione iniziale provocata dalle inimmaginabili condizioni di pressione e temperatura cui doveva essere sottoposta la totalità della materia energia primigenia racchiusa in uno spazio infinitamente piccolo il cosiddetto uovo cosmico si tratta di un'espressione utilizzata dagli astronomi a partire dagli anni trenta del ventesimo secolo ma mutuata da un archetipo presente in moltissime culture antiche compresa quella greca qualora ad un certo punto la forza di attrazione gravitazionale dovesse prevalere su quella centrifuga impressa alle galassie dal Big Bang si stima 13,7 miliardi di anni fa l'universo collasserebbe su se stesso implodendo nell'uovo cosmico per poi riesplodere e così in tempi determinati all'infinito un grande anno giunge a conclusione e di nuovo la ruota del mondo si mette a girare una visione immensa che ancora oggi non si può non esprimere in termini allusivi e metaforici il fuoco come ragione seminale la metafora organicistica ancora il fuoco di Zenone è una specie di seme che possiede le strutture razionali di tutte le cose e le cause di ciò che si genera nel presente nel passato e nel futuro un altro termine utilizzato dalla tradizione stoica è logos spermaticos ovvero ragione discorso seminale ad ulteriore conferma che fuoco e logos indicando la stessa identica cosa ovvero il cosmo o la natura hanno le medesime caratteristiche generative e razionali allora la metafora del tutto concepito come organismo vivente di cui ogni sostanza particolare e cellula costituente risulta ancora più significativa se per spiegare la genesi del tutto si utilizzano immagini quali uovo e seme di carattere evidentemente biologico il problema della libertà morale quale sarà dunque l'atteggiamento esistenziale che il filosofo stoico si sentirà in dovere morale e logico razionale di tenere per mantenersi coerente a tale concezione del mondo e soprattutto qual è l'effettivo spazio di libertà di scelta che si dà al singolo all'interno di un cosmo si fatto la circolarità del divenire cosmico e la dottrina dell'eterno ritorno dell'uguale di primo acchito infatti ogni libertà sembrerebbe venir meno il cosmo è regolato da una necessità rigorosa finalisticamente tesa alla realizzazione di una razionalità che è nel medesimo tempo legge divina e naturale capillarmente diffusa in ogni particella di materia imprescindibile inaggirabile il suo dominio poi non ha termine il cosmo ovvero il dio essendo perfetto non può che volere se stesso non potrà quindi che riprodursi identico ad ogni nuovo grande anno la circolarità del divenire cosmico che assomiglia molto alla bhavakatra la ruota dell'esistenza o del divenire della tradizione induista e buddista produce di necessità il cosiddetto eterno ritorno dell'uguale in greco apocatastasis ovvero tutto quello che accade qui ed ora è già accaduto e sempre ritornerà ad accadere all'infinito giacché per usare le parole di un grande filosofo contemporaneo Friedrich Nietzsche che si ispirerà espressamente alla dottrina dell'eterno ritorno in un sistema finito con un tempo infinito ogni combinazione può ripetersi infinite volte l'unica risposta possibile a ricordi logica consiste in una negazione assoluta l'uomo non dispone di alcuna vera libertà di scelta che lo voglia o meno è obbligato a compiere il destino che gli è stato preparato sin dall'inizio dei tempi e così per sempre ad ogni nuovo giro di ruota una necessità ferrea lo stringe da presso con una doppia pressione psicologica religiosa Dio lo vuole e laico scientifica la razionalità la legge di natura lo vuole nell'egemonico egemonicon il principio dell'interiorità umana risiede la libertà morale eppure rispetto alle altre sostanze che compongono il tutto minerali vegetali animali l'uomo ha una carta in più da giocare si chiama consapevolezza di quello che gli avviene di quello che fa ciascun essere umano può essere più o meno consapevole ed è proprio qui che si gioca la partita nell'ambito dell'interiorità in cui assede secondo lo stoicismo il cosiddetto egemonico che alla lettera significa il principio guida che per semplicità potremmo assimilare al concetto di anima individuale composta della stessa sostanza dello spirito cosmico pneuma di cui dicevamo prima scintilla del fuoco ragione universale che tutto permea l'anima umana è dotata di una sua propria autonomia di giudizio grazie a tale facoltà non ci limitiamo a vivere un evento ma lo giudichiamo ovvero ce ne facciamo anticipatamente un'idea gli attribuiamo un valore morale allora pensiamo che ciò ci accade sia bene o male giusto o ingiusto meritato o immeritato senza consapevolezza dell'accadimento non si darebbe alcuna possibilità di giudizio se ci capitasse di inciampare cadere a terra e sbucciarci un ginocchio per fare un esempio come un animale ferito forse sentiremmo dolore e basta senza sapere di stare soffrendo e senza attribuire a tale sofferenza un valore morale magari imprecando contro la sorte o contro la nostra disattenzione dinanzi ad una situazione emotivamente coinvolgente agiremmo solo distinto ovvero in base ad una razionalità quella implicita della nostra legge di natura che non comporta alcun giudizio o assenso da parte nostra a renderci liberi dunque è quella particolare facoltà razionale giudicante discorsiva di cui siamo per natura dotati ciò che chiamiamo linguaggio la nostra capacità linguistica non si limita a porci in relazione con la realtà ma intorno ad essa intesse discorsi esprime valutazioni elabora metafore siamo liberi di non accordare la nostra coscienza morale alla legge di natura ma liberi in che senso? sostanzialmente siamo liberi di sbagliare ossia di esprimere giudizi non conformi alla realtà delle cose o detto in altri termini siamo liberi di rifiutare di accettare quel che ci accade di non conformarci al nostro destino di recidere il cordone umbellicale che ci lega all'universo intero diventando degli esiliati nella città cosmica il concetto sarà efficacemente espresso da Marco Aurelio hai mai visto una mano troncata o un piede o una testa mozzata che giaci da qualche parte lontana dal resto del corpo? ebbene tale rende se stesso per quanto sta in lui chi rifiuta gli eventi e si distacca dal tutto o colui che compie qualche azione contraria agli interessi della comunità te ne stai da qualche parte separato da quell'unità che è conforme alla natura eri nato infatti come parte ed ora ti sei tagliato via ma a questo punto ecco quello che vi è di straordinario puoi congiungerti di nuovo Marco Aurelio in i ricordi 834 in linea con l'intellettualismo etico di Socrate secondo il quale vera virtù è il sapere all'errore in ambito conoscitivo dunque corrisponde un errore di tipo morale esistenziale il cosmopolitismo stoico ma come aggiunge l'imperatore filosofo possiamo fare ammenda adeguare i nostri giudizi alla ragione universale ricongiungerci di nuovo con il tutto riacquistando il nostro diritto di cittadinanza cosmica per così dire libertà che Seneca parafrasando lo stoico antico cleante racchiude nella celebre massima Ducunt Volentem Fata Nolentem Traunt il destino guida una volontà in armonia con esso trascina via inesorabilmente chi gli resiste e visto l'alluciglio 107 11 5 La teoria della conoscenza e la logica Senza la possibilità dell'errore in ambito conoscitivo non ci sarebbe la libertà morale di compiere il male Intorno al fondamentale tema della libertà dell'uomo ruota anche il problema della conoscenza agli stoici preme dimostrare che l'individuo è in grado di svolgere un ruolo attivo rispetto alla realtà tutt'avvolgente di cui è parte ovvero che egli sia in grado di cospirare per così dire con o contro il flusso universale in cui è inserito questo implica in ambito gnoseologico la dimostrazione della possibilità dell'errore in greco amartema se la conoscenza viene ridotta ad un fatto automatico o istintivo se non ci se non si può sbagliare allora non esiste alcun merito in senso morale né bene né male né coerenza né incoerenza e crisi può spiegarci in che cosa consista per l'appunto l'errore l'errore è tutto ciò che contrasta con la retta ragione di conseguenza i filosofi ritengono di dare una definizione molto generica delle passioni più o meno in questi termini il desiderio è un impulso che non segue la ragione la paura è l'atto di evitare un presunto pericolo senza affidarsi alla ragione il piacere è un'eccitazione irrazionale dell'anima l'errore ignoseologico è determinato dall'incapacità di tenere a freno le passioni che offuscano la naturale razionalità del principio direttivo l'errore è dunque un atto incoerente in senso conoscitivo che assume contestualmente una valenza morale e viceversa esso si basa su un giudizio irrazionale e produce un comportamento altrettanto irrazionale ci allontaneremmo dalla razionalità se nel giudicare ci lasceremo trascinare dalle passioni desiderio paura piacere eccetera è in questa sfera che si esercita la libertà di scelta ma cosa significa esattamente conoscere e a quale livello del processo di conoscenza si situa quell'attività giudicante da parte del soggetto umano che sola giustificherebbe la possibilità dell'errore origine sensibile della conoscenza le sensazioni producono nel soggetto conoscente delle rappresentazioni fantasiai degli oggetti percepiti l'atto del conoscere è in primo luogo sensibile e quindi esclude qualsiasi forma di attività da parte del soggetto conoscente entrando in contatto con i corpi materiali la nostra facoltà di sentire rimane segnata dalle loro impronte se prendiamo in mano una tazza colma di latte caldo sentiremo il calore che emana attraverso la ceramica e si diffonde lungo le dita della mano accostando il viso ad essa percepiremo l'odore dolce e denso del latte e il vapore caldo che sale in ampie spire unitamente alla visione della bevanda di cui ci rimarrà impressa la bianchezza la somma delle percezioni tattile e olfattive creeranno nella nostra mente una rappresentazione in greco fantasia ossia un'immagine mentale della tazza di latte si tratta di un dato originario di fronte al quale secondo gli stoici siamo assolutamente passivi la formazione della suddetta rappresentazione in altre parole non dipende dalla nostra volontà non possiamo non voler percepire quello che percepiamo sulle rappresentazioni agisce il giudizio della componente razionale la nostra componente razionale quella che gli stoici chiamano egemonico tuttavia si situa ad un livello ulteriore rispetto alle rappresentazioni non si ridà ad assimilarle ma ne prende coscienza le giudica le valuta le inserisci all'interno di un discorso razionale un conto è la mera percezione di uno stimolo esterno o interno che sia il semplice dato sensibile greco iparcon esso agisce indipendentemente dalla nostra consapevolezza un conto è diventarne pienamente coscienti farlo proprio dargli il nostro assenso sin catatesis questo significa assenso in greco per comprendere appieno questa distinzione concettuale che di prima chito potrebbe apparire presuntuosa o insignificante torniamo alla nostra tazza di latte bollente stavamo facendo colazione ora in base alla comune esperienza potremmo dire senza timore di essere smentiti che ci sono modi e modi di sorbirci la nostra tazza di latte di corsa senza quasi sentirne il sapore e magari bruciandoci la lingua in maniera rilassata ma distratta conversando con qualcuno oppure potremmo provare a concentrarci sui singoli gesti che compiamo gustandoci la bevanda con l'assaporarla lentamente i dati sensibili non cambiano calore bianchezza profumo cambia però il modo in cui ci rapportiamo ad essi ovvero li sentiamo attraverso il gusto il tatto la vista cambia il giudizio che ci formiamo dell'esperienza che stiamo facendo e delle emozioni che ad essa associamo fretta ansia rilassamento pace eccetera eccetera una rappresentazione fatta propria dal soggetto attraverso la senso razionale viene detta catalettica una rappresentazione cui si aggiunge un certo grado di consapevolezza è definita catalettica cataleptiche fantasia la catalessi che viene dal greco catalambano afferro prendo è l'atto cognitivo in cui si manifesta la volontà del soggetto conoscente e dunque entra in gioco il suo libero arbitrio una rappresentazione si dice catalettica quando è liberamente accettata e razionalmente compresa la rappresentazione catalettica è il criterio di verità in ultimo comprendere ossia dare o negare il proprio senso alle rappresentazioni che ci giungono attraverso la sensazione aestesis significa dal punto di vista dello stoico adeguare il proprio modo di sentire ed essere alla realtà in sé in ciò consiste il criterio fondamentale per distinguere la verità dall'errore attraverso la catalessi si fornisce validità alla rappresentazione se ne conferma l'evidenza originaria sincronizzandola armonizzandola al proprio giudizio ovvero il giudizio del singolo si armonizza alla pura e semplice realtà d'essere del fenomeno su questo punto possiamo chiamare in soccorso epiteto il quale a proposito dell'assenso veritativo afferma recisamente chi può impedirti di aderire al vero? nessuno chi può costringerti ad accettare il falso? nessuno in questo campo la tua facoltà di scelta è libera da costruzione necessità e impedimenti diatribe 1.17.22 al contrario si potrebbe scegliere di lasciarsi distogliere da qualche passione che agirebbe come lente deformante rispetto all'evidenza originaria offerta dalle sensazioni la metafora della mano di Zenone ad indicare le diverse fasi del processo conoscitivo a chi lo interrogava intorno al significato della catalessi ci riportano le fonti Zenone avrebbe risposto con un'immagine molto significativa con l'aprire la mano distendendola dinanzi a sé indicava la rappresentazione chiudendo leggermente le dita l'assenso stringendo le dita nel pugno la piena comprensione anche in italiano del resto i termini afferrare comprendere si usano sia ad indicare un gesto corporeo che un'attitudine conoscitiva i concetti astratti derivano dall'esperienza se la catalessi consente al soggetto conoscente di appropriarsi della rappresentazione attribuendole un determinato valore la sua origine sensibile e materiale rimane assolutamente fuori discussione prima e a prescindere dalla sensazione la mente è tabula rasa ossia è priva di qualsiasi determinazione su questo punto la gnoseologia stoica concorda con il materialismo epicureo contro l'innatismo platonico non esistono idee innate esse si formano attraverso le rappresentazioni prodotte dall'esperienza sensibile i concetti coinai e noi ossia nozioni comuni derivano per astrazione dalla sovrapposizione di una serie di esperienze analoghe che producono un'anticipazione prolepsis dell'esperienza futura sulla quale il soggetto conoscente si basa per orientarsi nella conoscenza del reale i concetti hanno solo consistenza gnosologica e non ontologica in filosofia si parla di concettualismo facciamo un esempio l'idea universale di albero che ognuno potrà comodamente visualizzare nella propria mente non deriva dalla forma pura di albero presente in una realtà trascendente che peraltro dato il rigoroso immanentismo stoico non potrebbe affatto darsi né dall'essenza della sostanza albero che abbiamo colto a più riprese facendo esperienza di questo di quell'albero contro platonici ed aristotelici le diatribe che vedevano contrapposte le diverse scuole tenesi furono assai frequenti nell'antichità gli stoici sostengono che l'universale non esiste come realtà ma ha un valore mente concettuale l'immagine di albero presente nella nostra mente è di origine sensibile e sussiste come concetto senza che per questo gli si possa attribuire una qualche esistenza reale le uniche realtà esistenti infatti sono quelle dotate di corporeità e sono per loro natura particolari tale concezione ignoseologica e denominata per l'appunto concettualismo la teoria del significato originale a questo proposito nonché assai moderna è la teoria del significato prodotta dalla riflessione stoica albero 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 concettuali corteccia rami e foglie che si trova nel giardino sotto casa il significato è esprimibile attraverso il significante che lo veicola nel linguaggio parlato e scritto comprendere il suono di una parola o di una frase vuol dire in pratica riuscire a collegare un concetto con uno più fonemi per questo non riusciamo a capire il significato di un discorso pronunziato in una lingua straniera a noi sconosciuta l'agnosiologia stoica anticipa alcuni temi della linguistica contemporanea in particolare il cosiddetto triangolo semiotico composto da significante significato e referente extralinguistico teorizzato dal linguista svizzero Ferdinand Sussur 1857 1913 una logica formale e proposizionale la logica stoica a differenza di quella aristotelica è di tipo formale e proposizionale se il significato come abbiamo visto ha un valore puramente concettuale dalla sua analisi non si ricaveranno conoscenze universali e vere ossia inerenti alla cosa reale in sé per sé dalle quali dedurre tramite sillogismi altre conoscenze essa sarà piuttosto dialettica che analitica in quanto mirerà ad appurare la correttezza formale dai nessi di collegamento dialettica deriva dal greco dialego discorro ma anche metto insieme raccolgo insieme tra una parola e l'altra all'interno della proposizione e tra una proposizione e l'altra del periodo in un certo senso dalla logica dello stoicismo antico deriva quella che oggi chiamiamo analisi grammaticale logica e del periodo che tutti abbiamo fatto a scuola intorno alla quale si affaticano effettivamente gli studenti delle scuole elementari delle scuole medie delle scuole superiori e fino anche quelli dell'università un singolo concetto non ha alcun valore conoscitivo ma lo acquista all'interno di una determinata proposizione per esempio l'espressione ho capito da sola non dice niente di verificabile ma se vi aggiungo un soggetto e un complemento oggetto essa acquista una sensatezza che posso validare confrontandola con la realtà Elisa ha capito la lezione sarà magari il professore domani a incaricarsi di verificare la veridicità o meno di tale proposizione i sillogismi studiati dagli stoici sono di tipo ipotetico o disgiuntivo tra i diversi generi di ragionamento la logica stoica predilige il sillogismo di tipo ipotetico o condizionale e il sillogismo disgiuntivo a differenza del classico sillogismo aristotelico composto da tre proposizioni collegate tra loro ad un termine medio tali sillogismi sono 1. costituiti da due proposizioni collegate da un nesso logico 2. non sono necessariamente veri o falsi bensì possono essere validi o non validi corretti o errati a. nel quadro di una logica proposizionale infatti non si mira ad accertare la verità o la falsità del sillogismo operazione che si può effettuare soltanto attraverso l'esperienza concreta bensì ad esaminare la correttezza formale del ragionamento ossia la pertinenza del connettore logico b. un sillogismo pertanto può essere formalmente corretto ma rivelarsi falso oppure viceversa 3. non si imperniano sull'analisi dei termini dall'universale al particolare ma su proposizioni che si esprimono in stati di cose che indicano stati di cose crisippo definì questi sillogismi anapodittici ossia di per sé evidenti che non necessitano di dimostrazioni e ne classifico cinque tipi la teoria morale la dottrina stoica è attraversata da una forma di realismo radicale la fisica e l'agnosiologia dello stoicismo come abbiamo visto sono orientate ad una forma di realismo a tutto tondo in effetti la coerenza del filosofo stoico consiste nella capacità di adeguare con amorevole accettazione e non solo sopportazione il proprio spirito o principio guida al logos universale esso si può intendere in senso eracliteo sia come legge razionale del mondo sia come legge razionale del discorso pensiero i due piani quello ontologico e quello logico linguistico naturalmente coincidono dunque nella libertà di comprendere e di dire sì agli eventi così come accadono amorfati senza lasciarsi turbare ed ingannare dalle passioni si dischiude propriamente la sfera morale al soggetto morale spetta la decisione di omologarsi da qui omologia coerenza morale o meno all'ordine delle cose secondo natura in questo consiste effettivamente il bene o il male tutte le altre cose sono classificate in generale come indifferenti a diafora occorre sgombrare il campo della scelta morale dai cosiddetti indifferenti o a diafora imparare a distinguere correttamente ciò che è suscettibile di desiderio o avversione giudizio di valore e impulso ad agire da ciò che invece è indifferente rispetto alla dimensione della moralità è fondamentale su tale distinzione si può dire si impernia tutta la teoria morale dello stoicismo la lista degli indifferenti è molto ampia e comprende sorprendentemente una serie di fattori e condizioni che in base al senso comune nonché al pensiero di altri filosofi antichi e moderni apparirebbero essenziali alla definizione di bene e di male ad esempio vita e morte salute e malattia integrità fisica o menomazione piacere e dolore bellezza e bruttezza ricchezza e povertà prestigio e discredito posizione sociale di rilievo e anonimato eccetera eccetera nell'indifferenza a diaforia consiste il retto atteggiamento verso quelle cose della vita che non dipendono dalle nostre decisioni morali in realtà non è difficile afferrare il motivo per cui tali cose nel loro darsi non rientrano nel novero dei beni e dei mali il loro minimo comune denominatore consiste nel fatto che esse non dipendono da noi non spetta a noi decidere intorno alla nostra condizione di mortali si nasce e si muore punto non ci possiamo fare assolutamente niente e così per il vigore fisico o l'infermità certo si può decidere di seguire uno stile di vita più o meno salutare questo sì ma in ultima istanza non è il nostro potere evitare che l'ennesimo virus della stagione o il coronavirus ci costringa a letto belli o brutti recita il celebre adagio si nasce e quanto al resto ricchezza famea cariche pubbliche eccetera eccetera esse sono suscettibili al variare a seconda della direzione cui ispirano i venti della fortuna ricchezze enormi possono essere letteralmente polverizzate da qualche speculazione di borsa e cinque minuti di gloria su qualche luccicante palcoscenico televisio essere pagati con anni di anonimato ciò che dipende dagli altri non rientra immediatamente nella nostra sfera di intervento se su un determinato aspetto della realtà non siamo liberi di sentire giudicare agire in autonomia allora non ha senso parlare di bene e di male già che l'unico bene e male che gli stoici ammettono è quello morale dal corretto esercizio dell'indifferenza a diaforia deriva la capacità di controllare le passioni apateia e lo stato di imperturbabilità la tarassia di cui gode il saggio si tratta quindi di imparare a distinguere correttamente ciò che è indifferente da ciò che non lo è la tarassia stoica lo stato di imperturbabilità che caratterizza il saggio è conseguibile solo grazie a tale distinzione coltivando correttamente la propria intenzione morale il saggio si impegna a modificare quello che è realmente in suo potere ossia se stesso e il proprio atteggiamento nei riguardi del mondo il resto gli è moralmente indifferente dunque non se ne lascia turbare l'indifferenza verso gli adiafora cioè le cose indifferenti non rappresenta soltanto una distinzione concettuale ma diventa per lo stoico una vera e propria pratica un allenamento quotidiano volto ad analizzare a tenere sotto controllo le passioni passandole al vaglio della ragione lo stato cui tende il filosofo è la cosiddetta apatia il dominio sulle passioni per inciso il termine apatia in italiano non ha il significato negativo che gli viene attribuito dall'uso che se ne fa oggi apatico nella terminologia stoica non equivale ad insensibile depresso alienato eccetera bensì piuttosto attemperante forte continente saggio e colui che sa gestire le proprie emozioni accordandole al corso dei fati al corso degli eventi alla realtà in sé la sua apatia assomiglia piuttosto ad una capacità di simpatia cosmica simpatia in greco vuol dire sentire insieme provare le stesse emozioni ovvero un sentire più profondo più sinfonico con il reale quindi non si tratta di spegnere le proprie emozioni ma di accordare le proprie emozioni i propri sentimenti con la realtà con il tutto virtù si dice in tante maniere diverse la virtù arete secondo gli stoici insomma si dice in tante maniere proviamo a ricapitolare i verbi sin qui incontrati 1 dominio di sé encrateia 2 coerenza con la propria natura omologia 3 indifferenza a diaforia 4 impassibilità apatia quattro termini diversi a questi termini se ne possono aggiungere altri in particolare quattro attribuiti a Zenone ma già presenti nella filosofia platonica destinati ad essere successivamente adottati dalla cultura cristiana medievale ed inseriti nella dottrina della chiesa cattolica si tratta delle cosiddette virtù cardinali distinte da quelle teologali fede speranza e carità perché basate sull'uso della ragione pura a prescindere dalla rivelazione divina non a caso Dante Alighieri le attribuisce in sommo grado al personaggio di Catone Udicense l'incarnazione dello stoicismo romano nel primo canto del Purgatorio definendole le quattro luci sante siamo nel Purgatorio primo canto verso 37 esse sono prudenza o saggezza frolesis in greco temperanza sofrosyune giustizia dikaiosyune fortezza o coraggio andreia ognuna di esse rappresenta secondo crisippo una diversa forma di scienza greco episteme 1 la prudenza scienza dei beni e dei mali di ciò che si deve e non si deve fare 2 la temperanza è la scienza di ciò che si deve scegliere e di ciò che invece è indifferente 3 la giustizia è la scienza che permette di attribuire i beni in maniera equa 4 la fortezza è la scienza di ciò che bisogna temere e di ciò che invece è indifferente minimo comune denominatore per non perdere il filo del discorso è il contenuto intellettuale conoscitivo della virtù essa come sappiamo consiste in un sapere in una forma di consapevolezza il vizio lo abbiamo già detto consiste nell'ignoranza e questa è la comune radice socratica trattando della fisica abbiamo visto come i termini natura ragione cosmo divinità fuoco eccetera eccetera si riferissero in ultima istanza alla stessa identica realtà anche in questo caso i tanti nomi servono ad indicare le diverse applicazioni di un solo atteggiamento di fondo perché per lo stoico la virtù in realtà è una sola in tanti modi declinare la stessa cosa nella vita di tutti i giorni lo stoico compie il proprio dovere ma come si traduce dall'atteggiamento nella vita di tutti i giorni come si comporterà concretamente il filosofo stoico domande che è legittimo porsi se non vogliamo immaginarcelo immerso in una sorta di mistica clausura perché sappiamo che la gran parte degli storici antichi soprattutto nel mondo romano condussero esistenze tutt'altro che schive e disimpegnate le ritroviamo anzi a ricoprire posti chiavi nell'amministrazione della cosa pubblica basti pensare tra gli altri a Seneca maestro e consigliore e consigliere di Nerone o a Marco Aurelio l'imperatore filosofo a questo punto si inserisce la nozione di dovere catechon se il principale dovere dello stoico è fare il bene ovvero come abbiamo visto orientare la propria scelta di vita fondamentale al logos in una visione finalistica della vita cosmica nelle faccende quotidiane egli si lascerà guidare dalla cosiddetta teoria dei doveri o delle azioni appropriate sarà in base a tale teoria che alcuni degli indifferenti che abbiamo menzionato sopra si riveleranno preferibili rispetto ad altri la natura secondo gli stoici munisce tutte le creature di un corredo distinti in greco ormai indirizzati alla conservazione e alla riproduzione della vita in base ad essi tutte le creature viventi sono portate ad evitare ciò che mette in pericolo la loro vita provandone paura e repulsione e a perseguire quanto è loro giovevole sentendosene attratti piacere e dolore non sono come voleva Epicuro condizioni originarie bensì conseguenze derivate dal naturale perseguimento di finalità biologiche l'universo stoico come abbiamo visto è il regno dei fini e non della pura casualità tra i doveri si pone in posizione nettamente preminente la partecipazione attiva e responsabile alla vita sociale e politica della comunità l'essere umano animale dotato di razionalità logicon zoon trasformerà ciò che nelle bestie pura istintualità in scelta ponderata e ragionata in base a questo principio asseconderà consapevolmente le finalità naturali preservando la propria vita con il lavoro e l'esercizio delle arti vorrà metter su famiglia e amerà i figli che il destino gli concederà essendo un animale politico politicon zoon sentirà come doveroso e appropriato il partecipare alla vita pubblica assolvendo i propri doveri di buon cittadino e recitando sino in fondo la parte che gli è stata assegnata sul palcoscenico della vita mercante o contadino ricco povero libero schiavo non fa alcuna importanza si sforzerà comunque di contribuire al bene della comunità umana come un soldato le metafore tratte dall'arte della guerra infarciranno i testi dello stoicismo romano soprattutto in Seneca egli obbedirà agli ordini e non volgerà la schiena al nemico dunque servirà la patria in pace e in guerra con la consapevolezza che se l'esito finale delle sue azioni non dipende da lui le sue scelte saranno comunque conformi ad una retta interpretazione morale un'etica fondata sulla nozione di dovere si dice deontologica dal greco deon che vuol dire dovere quella stoica in un certo senso è un'etica deontologica basata sulla purezza dell'intenzione sul senso del dovere sulla razionalità del soggetto morale non potendo conoscere in anticipo l'esito delle sue azioni consapevole che adesso concorreranno molti fattori che non sono sotto il suo diretto controllo lo stoico agirà con riserva mantenendo un certo disincanto di fondo un sarà quel che sarà perché il destino lo sovrasta e adesso dovrà comunque conformarsi con riserva si diceva ma agirà comunque nel foro nelle basiliche nei tribunali negli acquartieramenti militari lo stoico farà la sua parte senza tirarsi indietro assumendosi tutte le responsabilità e i grattacapi che da esse discendono sotto questo profilo la distanza dallo stile di vita epicureo pragmaticamente orientato alla tranquillità e alla aponia non poteva essere più marcata le polemiche tra stoici e epicurei infatti nel mondo antico erano all'ordine del giorno l'etica stoica è umanistica e filantropica la filantropia stoica non conosce i confini di sorta l'umanità che si contraddistingue che ci contraddistingue prescinde da qualsiasi differenza di razza sesso condizione sociale come l'epicureo egli è realmente cosmopolita pronto a riconoscere allo schiavo la stessa dignità del libero cittadino come ci insegna Seneca il cosmopolitismo del resto è l'esimo naturale della visione del mondo stoica sostanzialmente unitaria provvidenziale monoteistica non è un caso date queste premesse che la diffusione dello stoicismo in tutto il bacino del mediterraneo durante l'epoca romana favorì il sorgere e lo svilupparsi di una filosofia cristiana e che i padri della chiesa attingeranno anche ma non solo al vocabolario stoico per formulare in termini razionali la loro scelta di fede esercizi spirituali della tradizione stoica lucis in fundo come sappiamo come sappiamo gran parte delle informazioni riguardante lo stoicismo antico di Zenone e Cresippo ci derivano da Cicerone da autori neostoici come Seneca Epiteto e Marco Aurelio oppure da fonti relativamente tarde ciò nonostante si può provare con una certa approssimazione a tracciare un quadro dei principali esercizi praticati dagli studenti che si votavano allo stile di vita della stoa studiare la logica non significa memorizzare formule astratte bensì imparare a pensare e ad applicare il pensiero alla vita di tutti i giorni lo studio della logica innanzitutto non consisteva in un mero esercizio formale alla lavagna quarentemente alla lettera dell'intellettualismo etico di matrice socratica che fa coincidere conoscenza del bene ebbene retto pensiero e retta azione la logica intesa come scienza del retto pensare aveva una funzione eminentemente morale e spirituale imparare a pensare per lo studente non significava mandare a memoria uno sterile formulario di regole bensì applicare i sillogismi al proprio stile di pensiero in relazione ai casi concreti della vita ai problemi con i quali doveva misurarsi giorno per giorno fare un passo indietro sottoporre a verifica luoghi comuni pregiudizi abiti mentali preordinati equivale a servirsi della logica come di uno strumento per meglio padroneggiare il discorso interiore per fortificare il proprio egemonicon l'esercizio l'esercizio della logica serve a verificare di fatto quanto il logos interiore sia conforme al logos inteso come legge razionale del mondo allenarsi ad un modo di pensare realistico oggettivo razionale significa anche correggere quegli errori che derivano dalle passioni che si insinuano in maniera più o meno evidente tra le pieghe dei nostri ragionamenti studiare logica insomma è un po' come andare dall'oculista per indagare di quale lenti di correzione per così dire abbiamo bisogno per guardare al mondo così com'è allenare l'attenzione prosoche provare a rintracciare la pura fattualità di un evento ripulendolo dai pregiudizi e dalle emozioni ad esso associate richiede un costante sforzo di attenzione greco prosoche uno sforzo che però tende a ripagare il praticante con il calmare l'agitazione della mente acquistando acquietando ansia paura e rabbia e quindi acquistando maggiore sicurezza in sé per sé infatti direi Pitteto ciò che turba gli uomini non sono le cose ma i giudizi che essi formano intorno alle cose manuale capitolo 5 le cose riportate alla loro dimensione naturale non rappresentano motivo di inquietudine sviluppare nuovi stati di coscienza per questo anche lo studio della fisica rappresenta in vero un esercizio dello spirito contemplare razionalmente l'ordine del mondo equivale in un certo senso a guardare i fenomeni dal punto di vista del tutto elevandosi ad uno stato di coscienza per così dire cosmica non dovette essere estraneo alla tradizione stoica l'esercizio immaginativo denominato sguardo dall'alto provare a guardare il mondo e le vicende umane a volo d'aquila ricollocando nella loro reale dimensione che visti da vicino ci appagnano straordinari e inquietanti a volte ci insegna l'esperienza mutare prospettiva ampliare lo zoom dell'obiettivo attraverso il quale guardiamo noi stessi al mondo può avere un effetto rasserenante la prospettiva dall'alto assumere una prospettiva dall'alto significa anche contemplare lo spettacolo del volgersi dell'universo della nascita delle stelle del loro percorso negli spazi infiniti sino all'ecpirosis finale l'esplosione finale attraverso lo studio della fisica vissuto come esercizio spirituale il praticante prende consapevolezza della radicale impermanenza del tutto la metamorfosi del reale è continua fluida imponderabile ciascuno di noi ci si misura dall'esterno studiando il cambiamento delle cose delle persone che lo circondano e dall'interno osservando l'incalzante fluire dei pensieri un lento fiume che quietamente quando si è sereni o impetuosamente violentemente quando si è presi dall'inquietudine ci scorre dentro imparare a meditare sull'impermanenza e ad immaginare il futuro ma come si è detto a più riprese è alla rappresentazione della realtà così com'è che lo stoico è tenuto a dare il suo assenso per questo egli praticherà la meditazione interiorizzando la visione del divenire di più sentendola all'opera precisamente dentro di lui per poter accogliere virilmente benevolmente quello che la sorta è in serbo per lui svolgerà degli specifici esercizi di previsione in latino premeditazione del futuro premeditare le prove cui il naturale corso della vita o il fatto ci sottoporrà significa immaginarsi nelle situazioni limite sperimentarle ante litteram i rovesci della sorte la sofferenza fisica la perdita di una persona cara la propria morte situazioni di per sé indifferenti come sappiamo esse non dipendono da noi ma suscettibili di giudizio morale di serena accettazione o vano di senso giacché il male per esempio non consiste nella morte in sé ma può essere implicato dal modo in cui si guarda la morte e si trapassa per questo il saggio stoico se lo riterrà necessario o inevitabile non esiterà a darsi la morte consapevole che quello che gli spetta moralmente è di ben morire dimostrando coraggio oppure lasciandosi vigliacamente travolgere dagli eventi gli esempi storici di Catone o di scienze di Seneca stanno lì a dimostrarlo ci riporta di oggi della Ezio affermano gli stoici che il saggio secondo ragione si esporrà la morte per la patria e per gli amici e anche nel caso che sia vittima di dolori acuti o di menomazioni o di malattie insanabili in vide dei filosofi libro 7 paragrafo 130 meditare in anticipo sui mali futuri e sulla morte ma il fine di questi esercizi che i latini chiameranno premeditatio futurorum malorum e premeditatio mortis non è meramente preventivo non servono soltanto ad attutire il colpo che la sorte prima o poi ci infliggerà inoculando una certa dose di sofferenza nel presente onde abituarsi ad essa servono piuttosto a qualcuno potrebbe apparire inaudito a coltivare la pace e la tranquillità dell'anima con il ricondurre l'evento attorto e ritenuto in fausto o disgraziato in seno al naturale corso della vita ripunendolo da ogni pregiudizio meditare serve per vivere appieno la meravigliosa ricchezza dell'attimo presente inoltre pensare alla morte aiuta il meditante ad approfittare appieno del momento presente l'unico veramente esistente per godersi qui ed ora il valore senza prezzo dell'essere in vita perché vivere è un'esperienza meravigliosa raccomando a Marco Aurelio a se stesso cerca di renderti libero da ogni altro pensiero ci riuscirai se compirai ogni azione della vita come se fosse l'ultima evitando ogni leggerezza ogni avversione passionale per i dettami della ragione ogni falsità ogni egoismo ogni malcontento per la tua sorte dai ricordi 2 2 5 quando è messa in pratica la filosofia stoica diventa esercizio di vita vissuta i confini teoretici fra logica fisica ed etica come si è visto si dissolvono il retto pensiero la logica e la retta conoscenza della natura la fisica si trasformano naturalmente in retto agire etica o morale tanto che Aristone di Chio uno dei primi discepoli di Zenone potesse sostenere che la parte naturale logica della filosofia non solo è del tutto inutile ma addirittura controproducente e che pertanto occorresse filosofare solo intorno alle questioni morali ce ne parla Seneca nell'epistole 89-13 la filosofia come arte del vivere tecne tu biu in realtà lo stoico non può fare a meno della logica e della fisica perché anch'esse di fatto sono in funzione della pratica discorso teoretico e pratica si fondono nella dimensione della vita vissuta ed è proprio lì che di questo logos tripartito si ha più bisogno nell'esercizio del nobile mestiere di vivere tecne tu biu esso come tramanda l'esercizio diventa corpo vivente paragonano la filosofia ad un organismo vivente la logica la assimilano alle ossa e ai nervi l'etica alla carne e la fisica all'anima oppure la paragonano ad un uovo il guscio esterno è la logica la parte immediatamente seguente è l'etica quella più interna è la fisica talvolta ricorrono all'esempio dell'orto fertile la palizzata di recensione rappresenta la logica il frutto l'etica il terreno o gli alberi la fisica infine la filosofia è rappresentata come una città ben fortificata e diretta dalla ragione di oggi video dei filosofi libro settimo paragrafo 40 fine